Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del laboratorio di Excel per Tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come creare un grafico dinamico in Excel attraverso le formule. Partiamo dal primo esempio. Andiamo a vedere quello che è il grafico statico. Cosa significa grafico statico? Significa che il grafico in questione fa riferimento a questo intervallo di dati, ovvero i dati presenti dall'intervallo A1 sino a B7. Se vado ad aggiungere un mese, per esempio luglio, e poi vado ad aggiungere un importo, cosa succede? Che il grafico non subisce delle variazioni, cioè non va a includere i dati che ho aggiunto. Dunque, adesso vedremo come è possibile, dopo aver aggiunto dei dati, fare in modo che il grafico man mano vada ad espandersi. Per fare questo, andiamo nel foglio 1 e abbiamo bisogno di due formule. Le formule sono necessarie per poter individuare quelli che sono i dati, gli elementi aggiuntivi, nelle due colonne, nella colonna A e nella colonna B. Ora, prima di procedere, andiamo a visualizzare alcuni dettagli. Seleziono il grafico, vado su struttura grafico, seleziono dati, e ora faccio un clic nelle voci di leggenda, dunque, su modifica, e noto che il riferimento ai dati del grafico va da B2 sino a B7. Dunque, foglio 1, punto esclamativo, B2, B7. Perfetto, annullo. Ritorno ora, invece, sul... faccio un clic su modifica relativo all'asse orizzontale, e noto che questi dati fanno riferimento alla cella da A2 a A7. Perfetto, dunque, dobbiamo sostituire ora quei riferimenti creando degli intervalli denominati, dei nomi. Perfetto, ora partiamo con la denominazione. Andiamo sulla scheda formule, gestione nomi, creiamo il primo nome, e diciamo che il primo nome sono dati, e poi facciamo riferimento, i dati, dobbiamo fare riferimento a un intervallo, ma questo intervallo verrà generato attraverso quelle che sono le due formule. Ora do per un attimo l'ok, il nuovo nome che chiamerò sarà categorie. Perfetto, do l'ok. Per confermare, al momento dovrò, lascio i riferimenti in questo modo, andiamo un attimo a verificare come creare la nostra formula. Dunque, la nostra formula sfrutterà la funzione chiamata scarto. La funzione scarto ha bisogno di un riferimento di partenza, in questo caso sarà la cella 2 per quanto riguarda le categorie. Dunque, partendo dalla cella 2, dobbiamo abbracciare tutti i dati presenti all'interno della colonna A. Dunque, cosa facciamo? Ci spostiamo di zero righe, da quel punto, di zero colonne, ma invece attraverso l'altezza andiamo ad abbracciare, dunque a capire quanti elementi sono presenti nella colonna A. Per fare questo utilizziamo la funzione conta.valori e andiamo ovviamente a selezionare tutta l'intera colonna A. In questo modo chiudiamo. Poiché il risultato della colonna A andrà anche a conteggiare quello che è il mese, andiamo a sottrarre il valore 1 per escludere l'intestazione. Perfetto. E poi ci dice di quante colonne dobbiamo, qual è la larghezza, la colonna sarà sempre una. Dunque questa sarà la formula di cui abbiamo bisogno, che è già stata scritta all'interno di queste etichette. Dunque vado prima a copiare la prima formula, copio, ora andiamo su gestione nomi, ritorniamo su gestione nomi, la prima formula farà riferimento alle categorie, dunque andiamo a modificare il primo nome, diciamo che questa categoria si riferisce a quella formula e diamo l'ok. Ora chiudiamo un attimo, ci copiamo la seconda formula. La seconda formula, l'unica differenza è solo relativa alla colonna. Nel primo caso facciamo riferimento alla colonna A, dunque partiamo dalla cella 2 per abbracciare tutta l'intera colonna A, e invece nel secondo caso partiamo dalla cella B2 e abbracciamo poi l'intera colonna B. Dunque di nuovo andiamo nella gestione dei nomi, sui dati, andiamo a fare un'modifica e qua diciamo che i dati dovranno fare riferimento a questa seconda formula. Diamo l'ok, perfetto, abbiamo a disposizione i due nomi, ora ritorniamo sul grafico, lo selezioniamo, andiamo su struttura grafico, selezioniamo i dati, modifichiamo la serie e dunque al posto del riferimento B2, B7, dunque questi sono ovviamente i dati, andiamo a cancellare questa prima parte, dunque andiamo a cancellare i dollari e scriviamo dati, perfetto, e diamo l'ok, perfetto. Ora andiamo sull'etichetta dell'asse orizzontale, facciamo modifica, cancelliamo la parte relativa al riferimento statico e scriviamo categorie e diamo ancora l'ok, perfetto, a questo punto confermiamo con l'ok, ritorniamo sui nostri dati, inseriamo la scritta luglio, aggiungiamo un valore nella parte relativa ai ricavi, supponiamo 450 e come vedi automaticamente il grafico diventa dinamico, ancora aggiungiamo un altro valore per fare un'altra prova, 500, perfetto, man mano che andiamo appunto ad aggiungere i dati nella colonna del mese, nella colonna dei ricavi, il grafico man mano si espanderà. Bene, spero che questo esempio ti sia utile, se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti per restare aggiornato sui prossimi video e ti aspetto al prossimo video.